Ancora più importante, impellente interrogarsi sulla sicurezza delle persone, sulla sicurezza soprattutto dei bambini, perché ormai questo lupo arriva troppo facilmente vicino alle case, invade anche il costruito e l'urbanizzazione e quindi diventa secondo me un problema. La natura deve fare il suo corso, su questo non ci piove, ma quando in gioco comincia ad esserci la sicurezza della collettività è necessario iniziare un confronto pacato ma doveroso. Gli otto branchi di lupi censiti in provincia di Belluno, il numero con tutta evidenza è in difetto, sono diventati un problema. La scorsa settimana in Valbelluno e in Alpago il grande predatore ha fatto a brandelli pecore e asini. Nel weekend a Malga Garda, nell'Ente Iese, il lupo ha lottato ferocemente con due cani da guardiania rimasti feriti ma vivi. La situazione direi è drammatica perché ogni giorno ci sono capi predati e quello che vediamo sono che le misure di contenimento dei greggi, come le recinzioni, non sono sufficienti ma nello stesso modo anche i cani da guardiania non sono sufficienti ad allontanare il lupo, anzi sono loro stessi vittime del lupo. La gente oramai è esasperata, il copione è il medesimo dello scorso anno ma con una dose di esasperazione alle stelle. Il primo cittadino di Borgo Valbelluna è preoccupato. Noi dobbiamo renderci conto che queste nostre aziende agricole che lavorano nel nostro territorio sono un presidio indispensabile. Io auspico che tutti i sindaci della provincia di Belluno facciano una seria riflessione su questo tema importante e che la provincia di Belluno, assieme alla regione del Veneto, possa in qualche modo far squadra assieme alla provincia di Trento e di Bolzano per chiedere a gran voce alla politica nazionale e alla politica europea delle misure di contenimento del lupo. Stefano Cesa chiede un monitoraggio più puntuale, una verifica sulle specie che vagano in Valbelluna perché tra i lupi potrebbero esserci anche esemplari frutto di incroci e dunque in teoria ancor più pericolosi. Questo lupo deve essere anche analizzato con figure specializzate che possano dirci se questo è un lupo, una specie da proteggere oppure se si tratta in qualche modo di specie imbastardite e che quindi va in qualche modo limitato.